5 persone arrestate, 6 indagate, operazione antidroga all'alba della polizia all'arione Salinella di Taranto. L'attività di spaccio avrebbe coinvolto più persone tra i vari ruoli, anche chi sarebbe stato incaricato di allertare i familiari in caso di arrivo degli uomini della polizia di Stato. Indicata spesso con nomi di donna come Sofia, dal quale prende il nome il blitz della notte scorsa. Patrick Marcucci non è più il presidente di Confindustria Brindisi a comunicarlo e la stessa associazione degli industriali con una nota molto stringata, nella quale non vengono chiariti i motivi della destituzione. Truffe online, gli agenti della postale di Lecce hanno denunciato gli autori di due truffe che hanno coinvolto famiglie Salentine. Il Lecce torna ad allenarsi in modo individuale la Serie A spera, più difficile ripartire in Serie C. Buongiorno, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Canale 85. Partiamo con il coronavirus perché è l'adattamento al virus Covid-19 dopo la seconda ondata della pandemia e all'attenzione del professor Pierluigi Lopalco, responsabile, come abbiamo più volte ricordato, della Task Force per l'emergenza Covid-19 in Puglia. L'obiettivo della sanità pubblica, precisa in queste ore l'epidemiologo pugliese, è prevenire il ritorno del contagio. Prevenire il ritorno della pandemia è ora l'obiettivo della sanità pubblica. Lo spiega l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile della Task Force per l'emergenza Covid-19 in Puglia. Fondamentale, dice, per prevenire la seconda ondata è anche il senso di responsabilità dei cittadini. Rispetto alla fase 2, l'epidemiologo guarda come incoraggiante il comportamento osservato nei tanti cittadini che stanno facendo rientro nelle regioni del sud. Centinaia, ha detto, sono rientrati in Puglia e si sono autoregistrati sulla nostra piattaforma per dichiarare di essere rientrati e di essere messi volontariamente in quarantena per 14 giorni. Siamo molto contenti di questo spirito civico. Sulla questione tamponi precisa è diventato un argomento di propaganda in calza Lopalco. Io ne faccio di più e sono più bravo. È importante, quindi, sottolinea l'epidemiologo, che a livello nazionale arrivi una linea guida che stabilisca quanti bisogna farne, quando, a chi e quanti laboratori abilitati devono esserci sul territorio in base alla popolazione. Se si facesse questo, sarebbe più facile anche lavorare nelle regioni. Bisogna uscire dal paradosso, ha aggiunto, che fare più tamponi sia sinonimo di sicurezza e prevenzione e, tuttavia, ne vanno fatti di più di quanti fatti in passato perché abbiamo visto persone che a casa con la febbre non venivano diagnosticate e non venivano rintracciati i loro contatti. I tamponi vanno fatti in modo mirato anche a tutti gli asintomatici entrati a contatto con persone con Covid. Contro l'emergenza, probabilmente, entro fine anno avremo un vaccino efficace. Ma a partire da questo momento, conclude l'Opalco, se abbiamo stabilimenti pronti ci vorranno almeno altri sei mesi per avviare una produzione soddisfacente a garantirlo, soprattutto alle fasce di popolazione più fragili, che devono essere assolutamente protette. E sono nove i casi di contagio registrati ieri in Puglia su 724 tamponi effettuati. Sei nella provincia di Bari, due nel Foggiano ed uno nel Tarantino. Si riducono notevolmente i casi positivi di Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi nove test. Sei nella provincia di Bari, due in quella di Foggia, uno nella provincia di Taranto, nessun contagio nelle province Bat, Brindisi e Lecce. Sono stati registrati cinque decessi, uno in provincia di Bari, due nella Bat e uno in provincia di Brindisi e in quella di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 67.167 test. 779 sono i pazienti guariti, 2.945 invece i casi attualmente positivi. Dunque, in totale, i casi positivi Covid nella regione Puglia è di 4.153, di cui 1.328 nella provincia di Bari, 379 nella Bat, 582 nella provincia di Brindisi, 1.070 in quella di Foggia, 497 nella provincia di Lecce, 265 in quella di Taranto, 29 attribuiti a residenti fuori regione, 23 dei quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Ed apriamo ora il nostro Tg di cronaca relativamente a Taranto e provincia. Cinque persone sono state arrestate, sei indagate o un'operazione antidroga all'alba da parte della Polizia di Stato al rione Salinella della città dei Due Mari. L'attività di spaccio avrebbe coinvolto più persone tra i vari ruoli, anche chi sarebbe stato incaricato di allertare i familiari in caso di arrivo della Polizia di Stato, indicata spesso con nomi di donna come Sofia, dal quale appunto prende il nome, il blitz della notte scorsa. Il rione Salinella come un vero e proprio furtino, operazione antidroga della Polizia. Gli uomini della squadra mobile di Taranto hanno arrestato cinque persone, tra queste una donna ai domiciliari, le altre in carcere, con l'accusa di concorso in detenzione a spaccio di sostanze stupefacenti. Altri sei risultano indagati. Il blitz è scattato nella notte in uno stabile in Vialago di Monticchio. Le indagini, avviate nell'ottobre del 2018, hanno puntato l'attenzione su una presunta attività di spaccio a conduzione familiare, visto il legame di parentela tra le persone coinvolte. Uno dei destinatari delle ordinanze è Vito Rizzo, di 28 anni. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche, sarebbero stati coinvolti anche i minori. Impiegati nel trasporto della droga, prevalentemente cocaina, ma anche hashish. Importante il volume d'affari, la polizia ha riferito di circa 500 dosi giornaliere. L'edificio dove sarebbe avvenuto lo smercio delle sostanze stupefacenti aveva micro telecamere installate ad arte, ma secondo gli investigatori vi erano anche ruoli specifici, come quello delle vedette, oltre ai pusher. L'attività di spaccio sarebbe avvenuta prevalentemente in due appartamenti dello stabile finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Dalle indagini è emerso che l'approvvigionamento della droga sarebbe avvenuto sull'asse Salinella-Talzano. L'attività illecita avrebbe fruttato un importante patrimonio, ha spiegato il dirigente della squadra mobile, Carlo Pagano. Stando a quanto è emerso dalle indagini, gli assuntori avevano la certezza di poter acquistare la droga in qualsiasi momento della giornata. Cronaca politico-amministrativa. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Taranto, Giampolo Vietri, propone alla maggioranza di rivedere il bilancio del Comune Ionico e lancia a tal proposito alcune proposte. Con l'avvio della fase 2 sbocciano nuove emergenze a Taranto e su questo fronte interviene il consigliere comunale di opposizione, Giampaolo Vietri, il quale attraverso una nota inviata anche alla maggioranza della massima sise comunale, specifica come sia necessaria a questo punto una sorta di rivisitazione del bilancio per fronteggiare emergenze di cui parlavamo, come ad esempio quella dei commercianti, per finire alle altre categorie sociali della città. In che modo rivedere il bilancio comunale? Esattamente, purtroppo questa emergenza sanitaria ha messo anche in ginocchio l'economia e di conseguenza anche l'economia cittadina. Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio che però era stato redatto prima dell'emergenza Covid, per cui è un bilancio che non destina risorse a questa emergenza. Noi abbiamo espresso il nostro disappunto e abbiamo chiesto al Sindaco di riprogrammare il bilancio attraverso un programma di interventi e soluzioni di natura sia tributaria che regolamentare che sia condivisa anche con le parti sociali. Non ci siamo semplicemente fermati a chiedere, ma abbiamo anche fatto delle proposte. Io personalmente ho indicato delle soluzioni. In primis quella di recuperare i 10 milioni di euro di IMU, che l'amministrazione comunale avanza da altri istituti pubblici. In secondo luogo quella di abbassare il costo di raccolta rifiuti, che è 6 milioni di euro maggiore rispetto ai costi standard individuati dal Ministero. E infine quello di utilizzare l'avanzo d'amministrazione del 2019, che voglio ricordare è un risparmio della collettività e che in questa fase di emergenza va utilizzato per alleggerire la pressione tributaria a carico dei cittadini. Non c'è tempo da perdere perché c'è da mettere a riparo l'economia e anche la tenuta sociale della città. Ed è stato approvato il bilancio di previsione nella città di Grottaglie. Approvato dalla Massima Assisi e cittadina Grottaglie il bilancio di previsione. 14 voti favorevoli, 3 contrari, 4 li astenuti in un Consiglio Comunale Fiume terminato in nottata in modalità streaming. Un bilancio solido, lo ha descritto così l'assessore al ramo Mario Bonfrata nella sua relazione di presentazione. Il bilancio di previsione, accompagnato dal parere favorevole dell'organo di revisione, certifica la regolarità del prospetto contabile, la congruità e l'attendibilità delle previsioni ed ancora la conformità della previsione dei mezzi di copertura finanziaria e la salvaguardia degli equilibri. Tuttavia, a causa della crisi da Covid-19, la possibilità di spese è fortemente ridotta a causa di una prevedibile contrazione delle entrate comunali. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, la gestione della struttura comunale San Francesco de Geronimo, destinata a RSE a casa di riposo, e la realizzazione di una cabina elettrica finalizzata al potenziamento della linea elettrica esistente e alla fornitura di energia per il Centro Servizi per l'Agricoltura. Ed è il giorno successivo che, a sorpresa, il consigliere comunale di maggioranza Ciro Masciullo eletto nelle file di rigenerazione ha rassegnato le proprie dimissioni alla base della decisione, come a volte ufficialmente accade, motivi personali. Ed in molti sono giunti oggi a Taranto, dal nord Italia, per fare rientro al proprio domicilio. Adesso dovranno sottoporsi alla quarantena. Primi arrivi a Taranto di gente che rientra dal nord Italia. In molti sono tornati al proprio domicilio dopo oltre due mesi. Nelle ultime ore, 15 persone, come vuole il protocollo, sono state registrate dalla polizia. A loro arrivo nella stazione di Taranto, dove gli agenti della polizia ferroviaria hanno predisposto un servizio capillare per la compilazione delle autocertificazioni. Tutto si è svolto senza particolari problemi. Più numerosa, invece, circa 60 persone, la presenza di viaggiatori sugli autobus provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria e da altre località del nord. Anche qui severi controlli, ovvero al terminal bus da parte della polizia locale, coadiubata dalla protezione civile, dagli uomini e le donne dell'aeronautica e della polizia di Stato. Una giornata, lei l'autista del bus Alla partenza avete fatto il termoscanner? Sì, ogni partenza, sempre la misurazione col termoscanner. Buongiorno, da dove venite? Dalla Spezia. Allora, fare un weekend, diciamo, una passeggiata, sono rimasto bloccato dopo due giorni. L'IPCM e l'ordinanza regionale avevano riaperto, rientro nelle proprie residenze da altre regioni, già dal 4, ma le tratte lunghe si sono mosse rispettando questa data, quindi dal 4 della mattina. o nella tarda serata, per cui il vero rientro effettivamente c'è stato oggi. Complessivamente, quante persone sono arrivate a Taranto? Allora, il primo autobus che è partito dalla Lombardia è arrivato con 31 persone a bordo, sono state tutte controllate e abbiamo per ognuno sviluppato le autodichiarazioni per acquisire i dati utili. Partita ieri la fase 2, tante dunque le attività commerciali riaperte sull'intero territorio nazionale e a Grottaglie riaprono le botteghe ceramiche e ricevono un dono simbolico dall'Associazione Italiana Città della Ceramica. Le saracinesche si rialzano, seppur in un silenzio assordante, le vetrine mostrano le creazioni più belle. Frutto di arte e lavoro manuale, il quartiere delle ceramiche a Grottaglie torna ad indossare il suo vestito più bello, quello fatto di storia, cultura e sacrificio quotidiano. La CC non si vuole dimenticare dei suoi ceramisti e noi abbiamo chiesto appunto alla CC di consegnarci alcune mascherine che personalmente sto consegnando alle nostre imprese. Oltre ad essere un valore artistico, le nostre sono delle imprese che hanno bisogno comunque di riprendersi, iniziare a pensare positivo. È un segnale di vicinanza, quello che giunge dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, con la donazione di mascherine protettive ai ceramisti locali. Un supporto simbolico, una famiglia, quella dei comuni ed antica tradizione ceramica, che vuole continuare a tutelare il comparto dell'artigianato locale, nonché attrattore turistico e solida realtà economica. Per quanto riguarda gli aiuti economici ci stiamo lavorando, ma quello che vogliamo fare è tutelare il patrimonio artistico grottagliese dei nostri ceramisti attraverso l'aggressione di un disciplinare e fra un po' ci metteremo le mani insieme ai ceramisti e cercheremo di tutelare al meglio il loro prodotto. Mani di uomini e donne che attraverso l'argilla modellano, creano opere uniche nel loro genere, esportando oltre i confini regionali e nazionali l'arte figulina. Tra le più antiche rivalutate al mondo e mai come in un momento storico particolarmente difficile, è fondamentale la creazione di un disciplinare che possa, nero su bianco, regolamentare e proteggere il prodotto artigianale. Alcuni ceramisti ci hanno segnalato che la concorrenza di scarsa qualità sta rovinando il territorio, quindi è necessario lavorare su un disciplinare in modo che si attesti la qualità del prodotto grottagliese e insieme ai ceramisti cercheremo di fare un ottimo prodotto per tutelare appunto le attività e la nostra tradizione. Vi parliamo ora di locandine rosse sulle serrande abbassate dei negozi e il disperato grido d'allarme dei commercianti tarantini alla base della protesta all'incertezza e la mancanza di liquidità. Siamo al tracollo ci avete tolto anche la speranza recita così la locandina fissa sulle saracinesche dei negozi di Taranto l'iniziativa di protesta è animata dalla Confcommercio Ionica la locandina rossa appare sulle vetrine e sulle serrande chiuse delle imprese commerciali buona parte di queste dovrebbe riaprire dal 18 maggio ma il condizionale è d'obbligo e non è detto che la riapertura sia possibile per tutti alcune attività infatti non riusciranno a riprendere il lavoro alla base della protesta l'incertezza alla carenza di liquidità e ad oggi i percorsi avviati con le banche non hanno dato risposte adeguate burocrazie inutili passaggi di carte fanno sapere da Confcommercio rallentano la concessione del prestito di 25 mila euro peraltro per molti commercianti non sufficiente Giuseppe Spadafino componente della giunta provinciale di Taranto di Confcommercio molto arrabbiati abbiamo deciso di fare una serie di iniziative abbiamo purtroppo il problema delle incertezze di cui il nostro futuro non è chiaro noi abbiamo delle date che vengono sempre procrastinate che sempre di più vengono aperte però quello che noi chiediamo sono le certezze relative alle tasse alla certezza sugli aiuti in liquidità che non stanno avvenendo su quelle che sono risposte che i commercianti oggi pretendono perché il loro futuro è incerto non abbiamo oggi noi conoscenza di quella che sarà la nostra la nostra sorte abbiamo grassissimi problemi dagli aderenti a Confcommercio in Federmoda ai magazzini pieni di merce che oggettivamente dobbiamo provare a svendere perché oggettivamente non sappiamo da dove partire abbiamo una marea di incertezze per quello che riguarda il governo gli aiuti della regione stanno arrivando step by step le banche non danno sicurezza in quelle che sono le liquidità minime proveremo a fare un dialogo con l'amministrazione per quelle che sono tasse che non devono essere procrastinate ma che devono essere annullate fino alla data del 31-12 e da Taranto arriva la storia che vi proponiamo la storia di Dino dopo il lockdown non riaprirò più il mio ristorante dice è una scelta obbligata il lockdown scelto per lui tutte le altre ipotesi le ha avviate ma soltanto questa era quella possibile per poter andare avanti nonostante tutto oggi vi raccontiamo la storia di questo ristoratore tarantino dopo gli ultimi adempimenti burocratici in questi giorni chiuderà la saracinesca e poi non la riaprirà più il suo locale in via giovinazzi fortunatamente è soltanto il secondo e proprio per poter salvare il primo quello in periferia a Taranto 2 ha deciso di chiudere qui in centro come ci spiega passeggiando tra tavoli immacolati da quasi due mesi il locale è troppo piccolo quindi anche solo dimezzando i posti a sedere la spesa non varrebbe l'impresa ma le distanze di sicurezza andranno rispettate alla riapertura così lui a riaprire non ci pensa nemmeno e con non poco rammarico da dieci anni ho questa attività che ho aperto nel centro di Taranto che comunque abbiamo sempre traballato però tutto sommato adesso nell'ultimo anno che avevo inserito un mio figlio che ormai ha 23 anni stava crescendo veramente bene mica posso fare una colpa allo Stato per questa pandemia purtroppo è successo però come noi abbiamo sempre pagato le tasse contributi tasse IVA abbiamo tenuto il personale tutto assicurato anche gli extra che vengono il sabato che ci costano una certa somma perché tu li paghi la giornata li paghi i contributi anche per un giorno abbiamo sempre pagato tutto grazie a Dio non abbiamo con lo Stato non abbiamo niente sui conti correnti però abbiamo sempre pagato tutto siamo puliti su tutto io dico solo di di mantenerci le spese solo quello chiedo io il mercato settimanale di Talsano riapre nel pieno rispetto delle norme anti-coronavirus ospiterà gli ambulanti a posto fisso di Paolo Sesto Tamburi e Salinella una buona notizia per gli abitanti di Talsano e delle zone vicine da mercoledì 6 maggio riapre il mercato settimanale le istanze degli operatori dell'agroalimentare riuniti sotto diverse sigle di categoria sono infatti state accolte dall'assessorato allo sviluppo economico del comune di Taranto che ha prontato un piano specifico per consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato l'intesa è stata raggiunta al termine di uno degli incontri inseriti nell'ambito del calendario predisposto dall'amministrazione Melucci per programmare con comparti categorie settori produttivi e parti sociali la ripartenza nella fase 2 negli spazi a ridosso di via Cacace confluiranno anche gli ambulanti a posto fisso assegnatari negli altri mercati settimanali di Paolo Sesto Tamburi e Salinella che restano invece per il momento chiusi abbiamo raggiunto un accordo con loro ha spiegato l'assessore Gianni Catalvino trattandosi di poche postazioni destinate all'agroalimentare che non avrebbero giustificato la riapertura di quelle aree troveranno spazio accanto ai colleghi di Talsano confidiamo nella reciproca collaborazione e senso di responsabilità anche da parte dei cittadini la volontà del sindaco Rinaldo Melucci sottolinea Palazzo di Città è quella di dare ossigeno alle realtà commerciali in piena crisi economica a causa delle chiusure dovute alla fase 1 e nel questo quadro tuttavia la riapertura del mercato di Talsano non derogherà affatto le misure di sicurezza necessarie per prevenire il contagio da Covid-19 saranno adottate prevedendo due soli varchi uno per l'ingresso e uno per l'uscita accesso contingentato degli utenti con obbligo di guanti e mascherina e controlli da parte della Polizia Locale della protezione civile uno spirale di normalità quindi che deve essere necessariamente accompagnato dal buonsenso e dalla prudenza dei cittadini durante questa fase 2 sarà possibile viaggiare in autobus ma rispettando regole nuove grazie alla presidenza dell'AMAT siamo saliti a bordo di un bus urbano ed abbiamo così sperimentato come bisogna comportarsi siamo nella borgata di San Vito in via Pesce Chitarra a pochi chilometri da Taranto una traversa della trafficatissima via Bizzarro qualche giorno fa abbiamo raccolto la segnalazione di alcuni cittadini che abitano in zona questa è l'unica strada di accesso alle loro case ma oltre a non essere asfaltata si allaga e crea non facili problemi anche solo per uscire di casa ma i disagi non finiscono qui i residenti in via Pesce Chitarra non sono serviti dalla rete fognaria da anni non hanno l'acqua potabile e per finire non c'è neanche la pubblica illuminazione una situazione davvero difficile questa zona è di competenza dell'amministrazione comunale ionica e allora siamo tornati sul posto con il consigliere comunale Enzo De Gregorio che è anche il presidente della commissione assetto del territorio del comune di Taranto come vedete le immagini dicono tutto questi signori hanno ragione da vendere c'è da dire che attualmente sono senza acqua e senza fogna questa strada sarà interessata nei prossimi mesi dai lavori della CUP per cui avranno questi due servizi noi ci stiamo preoccupando di portare un po' le luci in tutti i quartieri tra cui anche il quartiere di San Vito ultimamente abbiamo messo a disposizione nel bilancio approvato il 28 aprile circa 300 mila euro è stato approvato un mio emendamento che distribuisce le risorse per tutti i quartieri periferici detto questo c'è un impegno formale che va preso con queste persone perché così come via Perceguità c'è almeno un'altra trentina di strade fra San Vito e la Montalzano che stanno nelle stesse condizioni e che non possono più stare così per cui speriamo che a breve si possa finalmente progettare la luce e che l'acquedotto nel prossimo semestre possa cominciare i cantieri e questo servizio che abbiamo appena visto riguardava gli interventi che necessitano nella borgata di San Vito perché dopo le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione da parte di alcuni cittadini che lamentano la mancanza di fogne acqua e pubblica illuminazione come avete potuto vedere siamo tornati nella borgata con il consigliere comunale presidente della commissione assetto del territorio Enzo De Gregorio torniamo su quello che era l'argomento di cui vi parlavo prima perché in questa nuova fase dicevamo sarà possibile viaggiare in autobus ma rispettando delle regole nuove guardiamo insieme proviamo a capire come funzionano le nuove regole a bordo dei bus urbani qui ci troviamo nel piazzale dell'AMAT che ci ospita sarebbe l'azienda per la mobilità urbana di Taranto andremo a bordo di un bus per scoprire anche qual è l'atteggiamento dei viaggiatori venite con noi ed eccoci all'interno dell'autobus di Chima Mobilità a Mater di Taranto ed iniziamo il nostro viaggio da passeggeri il numero dei viaggiatori consentito varia a seconda delle dimensioni dei mezzi si va da 18 a 25 persone i biglietti di viaggio non potranno essere effettuati a bordo e non sarà possibile sedersi accanto ad un altro viaggiatore le poltrone non utilizzabili sono state contrassegnate con un adesivo che indica il divieto necessario ovviamente rispettare anche il distanziamento sociale di un metro tutti avranno l'obbligo di indossare la mascherina e i guanti compreso il conducente dell'autobus insomma poche regole ma senz'altro molto utili bisognerà fare l'abitudine è stato soltanto il primo giorno e tutto sommato è andata bene però io non capisco l'italiano bene buono metti guanti mascherina sì sì ed anche a Taranto si registrano grosse perdite nel settore extraalberghiero a causa del lockdown siamo pronti a ripartire in sicurezza spiegano i nostri microfoni B&B affitta camere case e vacanza il settore extraalberghiero in Italia è quello che più è cresciuto negli ultimi anni e che ha subito in poco meno di due mesi a causa del lockdown da coronavirus una perdita del 95 e 8% delle presenze meno 12,7 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in totale 966 milioni di euro di spesa turistica persi i dati arrivano da Confessercenti nazionale a Taranto in Puglia il dato non è migliore purtroppo e proprio nella città bimare il danno potrebbe dirsi doppio in quanto proprio nelle ultime estati si era registrato un trend positivo di prenotazioni quasi ai livelli salentini siamo fermi praticamente da fine febbraio i B&B familiari non hanno avuto nessun aiuto ma nonostante questo vogliamo lanciare un messaggio positivo perché ci sentiamo come come un bugile che ha preso un cazzotto però poi si deve rialzare e quindi dobbiamo essere anche realisti cioè il nostro pensiero è quello di riprendere l'attività al più presso in piena sicurezza le spese restano ma gli incassi sono quasi del tutto azzerati il 50% di queste strutture è gestito da persone fisiche senza partita IVA che ad esempio dopo aver perso il lavoro ne avevano fatto di un vero e proprio lavoro con il quale sostenere le proprie famiglie nel capoluogo ionico le idee tra i gestori sono chiare sanificazioni frequenti ad ogni cambio camera e l'idea di accogliere in piccole strutture soltanto una famiglia per volta non bisogna tralasciare tuttavia un aspetto importante per queste famiglie non c'è stato ad oggi dal governo nessun tipo di aiuto adesso si attende almeno un segnale per una riportenza che dovrà vedere diverse novità nell'organizzazione di queste strutture la maggior parte delle strutture tarantine sono riunite nell'associazione B&B Taranto Terra di Sparta il presidente lancia un appello recuperiamo almeno il recuperabile bisogna differenziare quella che è la realtà della Lombardia magari con quella che è la realtà della Puglia noi siamo pronti ad accogliere la gente aspettiamo speriamo che almeno fino all'inizio di giugno si riesca a ripartire c'è già qualche prenotazione nelle vostre strutture sono arrivate delle richieste abbiamo perso tantissimo perché doveva essere un anno eccezionale ma pensiamo all'evento doveva esserci il 25 aprile l'evento del primo maggio il Medimex tutto questo non ci sarà i giuramenti della Marina insomma dovevamo essere pronti per fare un anno col botto purtroppo non è accaduto non perdete le speranze però ma la speranza non la dobbiamo perdere buongiorno buongiorno e ben ritrovati edizione del nostro telegiornale relativamente alla città di Brindisi e alla sua provincia in apertura la cronaca con quattro tentativi di rapina è stato fermato un uomo sembrerebbero quattro i tentativi di rapina effettuati nella mattinata di martedì 5 maggio a Brindisi presi di mira agli uffici postali del centro del quartiere Cappuccini e due bar il secondo presso il quartiere Commenda dove è stata raggiunta e fermata una persona ovviamente in fase di verifica il legame a tutti e quattro i tentativi di rapina ma la descrizione dell'uomo e della moto ritrovata presso il bar di Via Imperatore Augusto sembrano corrispondere alle descrizioni precedenti sembra terminata infatti anche per i malviventi la quarantena a Brindisi con un rapinatore solitario che è entrato in azione tra gli altri presso la posta di Piazza Vittoria sul posto le volanti della questura di Brindisi e gli agenti della scientifica in fase di valutazione del bottino l'uomo presso la posta del centro si sarebbe fatto consegnare una cassettina dal primo sportello interno dell'ufficio contenente però solo monete che è stata poi abbandonata all'ingresso della posta prima delle scale d'entrata che conducono alla piazza con l'uomo poi fuggito a bordo di una moto nera a dare l'allarme un testimone che ha permesso l'arrivo quasi immediato delle forze dell'ordine che hanno sentito i dipendenti e i testimoni presenti necessario anche l'intervento di un'ambulanza sempre presso la posta di Piazza Vittoria per un malore all'interno dell'ufficio postale non è al momento confermato se l'uomo fosse o meno armato la sua folle mattinata come detto sarebbe poi terminata presso il quartiere Commenda ovviamente ancora in fase di valutazione tutti i dettagli della vicenda Patrick Marcucci non è più presidente di Confindustria Brindisi sia comunicarlo e la stessa associazione degli industriali con una nota molto stringata nella quale non vengono chiariti i motivi della destituzione un vero e proprio terremoto travolge il vertice di Confindustria Brindisi il presidente Patrick Marcucci è stato rimosso dalla carica a soli 14 mesi dalla sua elezione molto ermetica la comunicazione diffusa nella serata di lunedì dall'associazione degli industriali che scrive a firma del direttore Angelo Guarini si rende noto che il dottor Patrick Marcucci è cessato in data odierna dalla carica di presidente di Confindustria Brindisi alla luce di tale situazione verranno attivati tutti i meccanismi procedurali previsti dalla normativa di sistema in funzione del rinnovo della presidenza e degli organi associativi in realtà la nota è stata inviata alle redazioni dei giornali solo quando il tam-tam della destituzione si era già diffuso perché il provvedimento era stato comunicato precedentemente alle imprese anche qui senza chiarirne le reali motivazioni è la prima volta che a Brindisi un presidente di Confindustria viene destituito ed è un provvedimento che ha pochi precedenti persino in Italia non essendoci comunicazioni ufficiali ed avendo per il momento scelto lo stesso Marcucci la strada del silenzio è possibile fare solo alcune ipotesi la decisione sarebbe stata assunta dopo una valutazione effettuata dal collegio dei provviviri di Confindustria Nazionale sulla sua elegibilità in quanto imprenditore ma c'è chi ipotizza anche l'esistenza di recenti frizioni interne tra una parte della struttura dell'associazione e lo stesso presidente Patrick Marcucci eletto l'11 dicembre 2018 dopo i nove anni di presidenza Marino avrebbe dovuto restare in carica sino alla fine del 2022 con la possibilità di un rinnovo per altri quattro anni la sua gestione era stata caratterizzata da una tendenza all'apertura e al dialogo ma senza rinunciare l'assunzione di posizioni schiette decise come quando aveva sollecitato un approccio diverso nei progetti di sviluppo portuale della città tutti negativi risultati i tamponi effettuati agli ospiti di una residenza per anziani di Fasano dopo la positività di quattro operatori sanitari sono risultati tutti negativi i 32 tamponi effettuati ai degenti della AS Peter di Brindisi istituto canonico Rossini la torre di Fasano nelle scorse ore la ASL di Brindisi aveva disposto di effettuare i tamponi a tutti gli ospiti della residenza per anziani dopo che quattro operatori sanitari erano risultati positivi al coronavirus gli os sono in isolamento domiciliare dal primo maggio scorso prosegue intanto l'attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 202 tamponi tra RSA territorio e ospedale Perlino in particolare sono stati eseguiti 37 tamponi agli operatori della casa di riposo Pinto di Ostuni mentre 30 sono stati quelli eseguiti agli operatori sanitari dell'ospedale di Brindisi oltre ad agenti e pazienti nel pronto soccorso i pazienti ancora ricoverati al Perlino sono 24 due dei quali in rianimazione Ci occupiamo ancora di cronaca perché Antonio Carrozzo l'ex poliziotto arrestato con l'accusa di aver compiuto investigazioni private non autorizzate collocando anche i microspie in abitazioni rigetta le accuse e chiede al tribunale del riesame di essere rimesso in libertà Ha ammesso di aver effettuato investigazioni per documentare l'infedeltà coniugale di una moglie non avendone titolo ma ha negato di aver utilizzato intercettazioni ambientali collocando microspie nell'abitazione della donna Antonio Carrozzo l'ex poliziotto arrestato insieme al tecnico informatico Angelo Dallò suo presunto complice per violazione della privacy e sottoposto ai domiciliari si è difeso così nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi in teleconferenza davanti al GIP Maurizio Sasso e al PM Raffaele Casto titolare delle indagini ed è su questa linea difensiva che si fonda il ricorso presentato al tribunale del riesame dall'avvocato Rolando Manuel Marchionna difensore di Carrozzo di Dallò e di altri due indagati a piede libero e con il quale viene richiesto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare sul tema delle intercettazioni ambientali della presunta violazione della privacy nonché di quella del domicilio per la collocazione delle microspie si gioca una partita decisiva nell'indagine perché sono stati proprio questi i motivi che hanno determinato le esigenze cautelari e dunque l'arresto la difesa ha sottolineato che su sei ore e 40 minuti di registrazioni sequestrate dalla polizia solo in due brevi clip di pochi secondi si ipotizzano intercettazioni ambientali che non sarebbero dunque dimostrate carrozzo indagato ma a piede libero anche per aver compiuto investigazioni private senza averne titolo e per aver fornito false dichiarazioni ai poliziotti del commissariato di Mesagne che lo avevano fermato durante un pedinamento intanto Angelo Dalò l'altro indagato finito agli arresti domiciliari dopo aver inviato un certificato medico nel giorno dell'interrogatorio di garanzia chiedendone il rinvio ha comunicato di rinunciarvi definitivamente tenuto conto del fatto che aveva già sostenuto due interrogatori davanti al magistrato inquirente gli altri tre indagati a piede libero tra cui la compagna di Carrozzo chiederanno al PM di essere interrogati subito dopo la decisione del tribunale del riesame e cambiamo ora argomento il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi replica confesarcenti ascoltiamo pronta la replica dell'amministrazione comunale alle dichiarazioni ai nostri microfoni di toni in amore per conto della confesarcenti Brindisi in particolare sul tema delle aperture degli esercizi commerciali e l'accusa di favorire assembramenti legati alle lunghe code per la consegna dei sacchetti della raccolta differenziata a chiarire ogni aspetto il primo cittadino di Brindisi Riccardo Rossi è stato detto che il comune chiude le attività dei negozi cosa che non è assolutamente vera l'apertura o la chiusura delle attività commerciali è stabilita dal governo Conte con i decreti della presidenza del consiglio e può essere ampliata con i poteri di ordinanza da parte del presidente della regione Puglia invece noi abbiamo organizzato la riapertura dei parchi abbiamo organizzato abbiamo organizzato la consegna dopo moltissimi giorni delle buste necessarie per la raccolta differenziata ed è stata fatta con un centri di smistamento che giorno per giorno cambiano e variano in città attraverso delle file anche molto ordinate adesso oggi ci sono anche i volontari della protezione civile per assistere appunto la puntuale distribuzione di queste buste e tra parentesi io a questo punto vorrei capire quale altro potrebbe essere la modalità nel senso che non si può andare a casa delle persone occorre avere una ricevuta per dimostrare il pagamento tari e quindi è questo l'unico modo col quale noi possiamo effettuare questa distribuzione non è possibile pensare di inviare persone in tutti i domicili di tutta Brindisi per questa consegna in una fase come l'emergenza Covid quindi mi sembrano molto strumentali come sempre avviene da questo personaggio che ha parlato in questi giorni le polemiche nei confronti dell'amministrazione e riparte il servizio di integrazione scolastica nell'ambito sociale e territoriale Brindisi 4 ad annunciarlo il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli la fase 2 parte con uno sguardo particolare alle fasce più giovani e fragili con la ripresa del servizio di integrazione scolastica dell'ambito sociale e territoriale Brindisi 4 la decisione è stata assunta al termine della discussione a tema svoltasi nel coordinamento costituito da rappresentanti dei nuovi comuni nell'ambito del quale Mesagne e Capovila e del quale fanno parte Cellino San Marco Erchie Latiano San Pancrazio Salentino San Pietro Vernodico Sandonaci Torchiarolo e Torre Santa Susanna una cosa importante perché è un servizio che è rivolto agli alunni diversamente abili i cui genitori hanno chiesto o chiederanno appunto con modalità a distanza questo tipo di sostegno di che si tratta? Si tratta di sostegno alla didattica dei ragazzi ma anche al supporto educativo alle famiglie che verranno guidate evidentemente in un rapporto di collaborazione alla realizzazione del piano educativo individualizzato anche attraverso approcci ludici e per favorire le relazioni un servizio centrale un servizio importante che già c'era nel momento in cui i ragazzi frequentavano la scuola adesso è stato semplicemente ripristinato con questa modalità a distanza Attività commerciali che riaprono anche in terra adriatica andiamo dunque a vedere qual è la situazione Io preferisco faccio un'altra settimana vediamo 4-5 giorni preferisco chiudere e aspettare perché così andiamo solo a perdere Riaprono i bar a Brindisi ma come abbiamo sentito con grandi timori anche per loro sembra essere questa una fase di sperimentazione che mette però in gioco il loro presente e forse il loro futuro ci vogliono comunque provare prima di fare una valutazione di costi e ricavi dell'incertezza legata ancora alle prossime settimane Io penso che il problema è per me e per tutti i proprietari di bar e ristoranti perché bisogna cambiare la regola secondo me lavorare con i tavoli di fuori sarebbe la cosa più ideale più precisa perché il tavolino fuori io metto 5 tavolini una persona si siede da solo al tavolino consuma e va via così entrare nel bar prendere un caffè nel bicchierino di plastica portarlo via il cornetto e poi vederlo mangiare alla panchina o per il corso non è proprio una cosa da persone civili un tema importante per Brindisi ed il suo futuro proprio in queste settimane che avrebbero segnato la fase iniziale della stagione croceristica a Brindisina oggi noi dovevamo avere il terzo attracco delle navi navi da crociera dove ci portavano tanta limpa nuova proprio sangue fresco sangue dove la città ha bisogno di questo ma perdere tutti quegli incassi tu non riparerai mai la situazione cioè stiamo veramente ai piedi di Dio come dicono a Brindisi va poi le 600 euro che ci hanno dato da piangere da piangere ed i negozianti e tanti piccoli imprenditori hanno bisogno di liquidità vera e di aiuti concreti il senatore Luigi Vitale unitamente al consigliere comunale francavillese Antonio Andrisano a proposito della fase 2 evidenze incertezze da un lato e allo stesso tempo la voglia di ripartenza i due esponenti politici hanno raccolto in questi giorni il grido di dolore e le proposte lanciate dagli operatori economici i negozianti e tanti piccoli imprenditori hanno bisogno di liquidità vera ma anche di aiuti concreti il senatore Luigi Vitale unitamente al consigliere comunale Antonio Andrisano a proposito della fase 2 evidenziano incertezza da un lato ma nello stesso tempo voglia di ripartenza i due esponenti politici hanno raccolto in questi giorni il grido di dolore ma anche le proposte lanciate dagli operatori economici i piccoli imprenditori di Francavilla ma anche della provincia di Brindisi pur volendo e dovendo riaprire nelle prossime settimane lamentano come denunciano Vitali e Andrisano il fatto di essere stati ignorati dall'istituzione ad ogni livello mentre molti negozianti da un lato hanno inutilmente atteso di ricevere un bonus ma anche prestiti a tasso agevolato dall'altro hanno dovuto continuare ad onorare canoni di locazione finanziamenti mutui e fatture per le più varie forniture i titolari dei negozi di abbigliamento in particolare lamentano una scarsa informazione in merito alle misure da adottare nel prossimo ed imminente futuro per poter riaprire per non parlare informano sempre Vitali e Andrisano della necessità di dover far fronte a spese talvolta rilevanti per adottare le misure di sicurezza si riapre in un momento in cui manca la liquidità dopo due mesi di totale chiusura il mondo dell'imprenditoria lamenta un grave scollamento i negozianti affermano Vitali e Andrisano sono ben consapevoli che le settimane e i mesi che li attendano indipendentemente dalla riapertura saranno di difficoltà e contrazione nelle vendite ma ciò nonostante hanno l'assoluta necessità di ripartire per evitare di scomparire Andrisano e Vitali da tempo hanno avviato un tavolo di confronto permanente perché dicono occorre tenere saldo ed efficace il dialogo con le forze produttive ed uno sguardo ora anche alle partite IVA nasce anche a Brinis il gruppo delle partite IVA che come primo atto ha incontrato l'amministrazione comunale consegnando simbolicamente le chiavi della propria attività ma presentando anche proposte concrete per affrontare questa delicata fase di ripartenza e di incertezza tante le preoccupazioni dei commercianti e non solo che chiedono risposte alle massime istituzioni provando a fare fronte comune con l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Rossi e dall'assessore Pinto quello che regna adesso dopo la fase di lockdown è la paura di quello che sarà il dopo di tutte le società di tutte le partite IVA come riaprire cosa fare con i propri dipendenti se riaprire quella che con ieri col sindaco è stato un incontro molto importante perché comunque abbiamo esposto quelle che sono le nostre paure siamo comunque d'accordo col sindaco per quanto riguarda la riscossione di quelli che sono i tributi locali in quanto non avendo usufruito comunque questi tributi locali non dovrebbero essere abrogati molto importante anche il discorso riguardante il suolo pubblico in quanto adesso tutte le aziende che prima ne usufruivano avranno bisogno di più spazi abbiamo consegnato la chiave simbolica delle nostre attività nelle mani del sindaco Riccardo Rossi e dell'amministrazione questo è stato un gesto simbolico per appunto indicare che tutto il settore delle partite IVA è in difficoltà attività che hanno chiuso in attivo costrette alla chiusura dal 10 marzo riapriranno in passivo con affitti arretrati con la mancanza degli incassi e comunque tutto da pagare bollette e tutto il resto per cui noi chiediamo un aiuto all'amministrazione sia comunale sia alla regione ed in piena emergenza sanitaria fa da contraltare la felicità di una coppia di Ostuni che ha gioito per la nascita dei loro gemellini da una parte la paura della pandemia la preoccupazione per il lavoro fermo da mesi dall'altra l'immensa gioia per la nascita dei loro figli sì avete capito bene figli mamma Antonella e papà Adriano Moro in piena emergenza covid-19 hanno un motivo grandissimo per gioire la nascita dei loro gemellini Francesco di 1,9 kg e Gabriele di 2,2 kg hanno visto la luce il 27 aprile scorso all'ospedale Perrino la coppia gestisce da tempo una pizzeria nella città bianca e ora sanno di doversi rialzare ancora più in fretta anche dal punto di vista lavorativo non potremo mai dimenticare questo momento affermano i neogenitori che preferiscono però evitare le telecamere ma la nascita dei nostri bambini è un messaggio d'amore e di speranza per chi non vede via di uscita la nascita legata alla rinascita al post-covid alla fase 2 che la coppia austenese ha iniziato con ancora maggiore responsabilità e con la voglia di riprendere in mano anche la loro vita imprenditoriale auguri da tutta la redazione di Canale 85 a mamma Antonella e a papà Adriano e ai due piccoli Francesco e Gabriele e tra dubbi ed incertezza il Brindisi prova a riorganizzarsi per la nuova stagione naturalmente parliamo del calcio si sta provando a modificare gli assetti societari creando un'unica società al posto delle due anime esistenti fino ad oggi la Brindisina e la Campana inoltre si sta sondando la disponibilità degli Amber a restare in riva all'Adriatico e termina qui il nostro OTG relativo a Brindisi e alla sua provincia una breve pausa tra pochissimo saremo a Lecce ben trovati apriamo dunque la pagina dedicata al TG di Lecce della sua provincia in apertura truffe online gli agenti della postale di Lecce hanno denunciato gli autori di due truffe che hanno coinvolto famiglie salentine sono sempre più in crescita le truffe online gli agenti in servizio presso la divisione polizia anticrimine hanno denunciato a piede libero due persone accusate di truffe online a danno di cittadini leccesi il primo episodio ha riguardato una finta assicurazione RC auto venduta online su un sito che pubblicizzava una nota compagnia assicuratrice la vittima dopo aver contattato il numero fisso presente sul sito è stata poi richiamata da un 27enne della provincia di Napoli che ha richiesto il pagamento della polizza tramite bonifico bancario ad un numero IBAN intestato non alla società assicuratrice ma ad una persona fisica le indagini hanno permesso di risalire l'identità dell'autore della truffa si tratta di una pratica piuttosto diffusa in tutto il paese numerose sono infatti le segnalazioni all'autorità giudiziaria a carico dell'indagato il quale con la collaborazione di altri soggetti pubblicizza sui siti internet condizioni vantaggiose per la stipula di assicurazioni RCA traendo in inganno legnare vittime le quali contattando un'utenza telefonica di rete fissa credevano realmente di mettersi in contatto con gli uffici di un'agenzia di assicurazioni salvo poi essere dirottati su utenze di telefonia mobile i cui interlocutori oramai esperti del settore chiedevano di effettuare pagamenti su quelle che si rivelavano carte ricaricabili intestate a persone fisiche e non come invece dovrebbero essere con bonifici ad agenzie assicurative l'altro caso ha riguardato invece un finto annuncio per l'affitto di un appartamento a Milano realizzato da un 56enne residente a Palermo e che è stato indagato in stato di libertà per truffa ad una famiglia leccese alla ricerca di una casa a Milano per il proprio figlio dopo aver eseguito una vaglia postale veloce l'uomo non ha più risposto al telefono tre maggioregni ed un minorenne sono stati arrestati a Nardò perché trovati in possesso di droga i carabinieri di Nardò li pedinavano già da tempo e nelle scorse ore sono stati oggetto di perquisizioni e denunce con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso marijuana ascisce e cocaina sono stati arrestati un ragazzo non ancora diciottenne e altri tre Marco Alemanno di 25 anni Lario Toma di 30 anni e Giulia Martina di 20 anni tutti neretini nella scorsa serata è scattato il blitz all'atto dell'irruzione due giovani hanno anche tentato la fuga disparata dalla tettoia delle abitazioni per raggiungere quelle vicine ma sono stati acciuffati prima che li riuscissero a dileguarsi nel borsone rinvenuto nella loro disponibilità i carabinieri hanno trovato sei dosi di cocaina già confezionate per tre grammi un involucro sempre di cocaina di 26 grammi e ancora due altri pacchetti corrispettivi 57 grammi di marijuana e 43 di ascisce una somma di 2530 euro ritenuto provento di spaccio i maggioreni sono stati ristretti a domiciliari il 17enne in centro di prima accoglienza per minori ed il presidente della provincia di lecce stefano minerva scrive al governo per un sostegno al turismo salentino il presidente della provincia di lecce si schiera al fianco degli imprenditori del settore balneare che vivono un momento di profonda incertezza e scrive al governo dopo aver letto con attenzione le parole e l'appello di alfredo prete titolare di un'impresa balneare nel nostro territorio e parla di una necessità di comunicazione ritengo che non vi sia più tempo da perdere non potendosi lasciare in baria delle onde quanti oggi vivono una situazione di incertezza seppur generata da legittime restrizioni non si può più tornare indietro e né creare confusione e interpretare le regole che non brillano di particolare chiarezza in una situazione emergenziale senza precedenti come quella che stiamo vivendo appare evidente continua il numero uno in palazzo dei celestini che il ruolo di Stato Regione, Provincia e Comuni sia quello di fare sistema rispondendo con certezza nel più breve tempo possibile alle istanze dei cittadini con regole e facile applicazione conclude Minerva che tengano conto dei cambiamenti sociali ed economici con cui le nostre comunità stanno andando a convivere serve uno scatto d'orgoglio animato da umiltà ragionevolezza ma soprattutto senso di responsabilità che in questo momento non deve conoscere colori politici un appello fondamentale alle porte di una stagione estiva quella 2020 che rischia di essere compromessa dal covid e che quindi di conseguenza rischia di compromettere economia e lavoro di un territorio che è trainato dal suo turismo nessun termoscanner in dotazione al tribunale di Lecce le udienze potrebbero slittare arriva il no del ministero della giustizia alla fornitura dei termoscanner per il tribunale di Lecce così come richiesto dagli uffici giudiziari della corte d'appello di Lecce la decisione è giustificata dall'assenza di indicazioni in tal senso nei decreti del presidente del consiglio dei ministri in mancanza di tale dispositivo di sicurezza la ripresa dei processi in aula fissata per il prossimo 12 maggio rischia di saltare nel progetto presentato dalla corte d'appello era previsto l'acquisto di 11 termoscanner con il sistema tornello che si blocca se percepisce una temperatura superiore ai 37,5 gradi per un costo complessivo di 53 mila euro due per ogni edificio ovvero tribunale penale e corte d'appello penale di viale De Pietro tribunale e corte d'appello civile di via Brenta e tribunale per i minorenni di via Dalmazio Birago ma la somma richiesta sarebbe stata negata dal ministero della giustizia a tal proposito è stata interpellata la regione Puglia sul distanziamento invece il problema non sussiste secondo il sopralluogo effettuato dai responsabili della sicurezza e della sanità è garantita sia nelle aule grandi che in quelle piccole una distanza di due metri a patto che non si superi il numero massimo di 18,9 persone dura nota della Feder Balneari di Lecce che attacca il ministro Franceschini e chiede risposte certe sulle riaperture dei lidi la Feder Balneari Salento attacca il ministro Franceschini per le dichiarazioni vi lasciate a che tempo che fa stiamo lavorando perché si possano fare le vacanze che saranno però oggettivamente diverse non è possibile ad oggi dire quando sarà possibile andare su una spiaggia aveva detto Franceschini Mauro della Valle presidente della Feder Balneari attacca tramite una nota stampa dato che l'estate è alle porte e che il turismo estivo è sinonimo di turismo balneare come può pensare un ministro con delega al turismo di calendarizzare le aperture del commercio a dettaglio il 18 maggio la ristorazione il primo giugno senza mai spendere una parola sulle spiagge pensa forse che il turista venga nel Salento o ad Otranto per comprare una camicia o mangiare una carbonara non riesce a fare il passaggio mentale che estate uguale mare l'invito della Feder Balneari è ad avere delle indicazioni precise quanto prima ministro quando pensa di illuminarci con il verbo pensa di attendere ancora una ventina di giorni e fare come il premier con i suoi DPCM e dirci alle due di notte di sabato che all'indomani le spiagge potranno aprire non funziona così Franceschini scrive la Feder Balneari noi dobbiamo saperlo ora come dobbiamo attrezzarci perché allestire una spiaggia con tutto quello che di nuovo dovremmo mettere in campo non è come girare la chiave nel cruscotto dell'auto ingranare la marcia e via a noi servono settimane e quindi ministro Franceschini conclude la nota della Feder Balneari dopo 70 giorni e 450 esperti noi quest'ora lo esigiamo ic et nunc dato che lei è anche ministro dei beni e delle attività culturali qui e subito la Feder Balneari insomma attacca al ministro adesso il diritto di replica tre giovani salentini premiati dalla comunità europea per un progetto che potrebbe agevolare i docenti nella correzione dei test via web distanti ma uniti nella promozione di proposte utili a contenere gli effetti provocati all'emergenza covid-19 questo è l'obiettivo con cui nello scorso weekend oltre 20.000 tra esperti innovatori start-up cittadini investitori di tutta Europa si sono andati appuntamento virtuale in un evento organizzato dalla commissione europea che ha visto i partecipanti mettere a punto oltre 2.100 prototipi innovativi tra hardware software e tecnologia biomedica a trionfare nella competizione ci sono anche tre giovani salentini Drogia Gaetani Sinimbaldo della Fonte Corrado Palese si sono imposti nella categoria e-learning tools con il progetto i-learning un progetto che ci viene spiegato proprio da uno dei vincitori il progetto nasce da un'idea sviluppata durante l'hackathon organizzato dalla commissione europea che si è tenuto nel weekend del 25 aprile io insieme ad altri sei ragazzi abbiamo creato la piattaforma chiamata i-learning ovvero una soluzione che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale al fine di semplificare sia la preparazione che lo svolgimento ma anche la correzione degli esami da remoto attraverso una piattaforma gli studenti ricevono in maniera simultanea le domande nell'esame possono rispondere e l'insegnante in real time visualizza le risposte ma anche una guida sulla valutazione dell'esame stesso grazie alla vittoria del nostro progetto all'interno della categoria i-learning metodos e tools abbiamo la possibilità di partecipare all'evento organizzato dalla commissione europea il matchathon nel weekend del 22 maggio qui saremo messi in contatto con degli investitori importanti a livello mondiale al fine di trovare i finanziamenti per poter sviluppare la piattaforma e renderla disponibile con delle tempistiche di go to market ristrette in modo da poter essere subito live per le prime sessioni degli esami universitari a settembre ed è nato a Racale lo spazio della solidarietà con la possibilità di donare generi alimentari per i più bisognosi chi può metta chi non apprenda è la frase di San Giuseppe Moscati che accompagna l'iniziativa dell'ex sindaco di Racale Donato Metallo una delle tante per sostenere le famiglie bisognose in questa emergenza sanitaria da covid-19 è attivo da lunedì in via Roma uno spazio per sostenere chi è in difficoltà fornendo generi alimentari e dispositivi di protezione individuale chi può è invitato a recarsi e fare la propria donazione chi non può chi ha bisogno anche in privato può chiedere un sostegno è nato da un gruppo di amici si è diffusa poi tramite come ho detto i canali social e sta funzionando sta funzionando perché è un periodo difficile e nei periodi difficili diciamo c'è tanto bisogno ma c'è anche tanta voglia di solidarietà è un po' diciamo è quello che diciamo che sempre ci ricollega quella frase di Paese Paese vuol dire non essere mai soli e oggi stiamo realizzando tutto questo per adesso possiamo garantire almeno due mensilità di poter contribuire ai bisogni di circa 100 famiglie per i prossimi due mesi l'obiettivo chiaramente tende ad essere superato perché tante sono le necessità e tanti sono anche diciamo le donazioni che stiamo ricevendo stanno continuando voglio ringraziarli perché stanno continuando a fare solidarietà tanta solidarietà ci stiamo tenendo per mano e nelle comunità nelle piccole comunità questo è l'unico modo per uscirne saranno momenti difficili momenti sicuramente che non abbiamo mai affrontato abbiamo affrontato altri momenti difficili però in questo momento io penso che che facendo squadra che tenendoci insieme anche se come si dice distanti ce la faremo ed il caldo e la voglia di uscire ha ripopolato la città barocca le immagini che vi mostriamo sono quelle del centro nella mattinata di oggi nuovo lecce popolata affollata non di turisti ma di residenti la fase 2 nel capoluogo del Salento va così il traffico di sempre la gente in giro i barri aperti seppur per il solo servizio d'asporto e su Instagram si sprecano foto di rustici e pasticciotti forse era quella normalità che più di ogni cosa era mancata ed eccesi e se i parchi almeno per il momento restano chiusi in tanti hanno attraversato a piedi il centro storico il cuore pulsante della città piazza Mazzini a guardarla bene sembra quasi quella del pre-coronavirus traffico regolare la circunvallazione è tornata quella di sempre e si ripresenta il problema dei parcheggi che comunque rimangono gratuiti fino a nuova ordinanza comunale il sole poi aiuta le prime due giornate della fase 2 sono state calde quasi estive e non è facile immaginare che anche le marine verranno prese d'assalto una libertà condizionata che ha fatto ritrovare il sorriso a chi era stato in quarantena per quasi 60 giorni una fase 2 a cui prestare attenzione mentre l'opinione pubblica si divide ma a vederla così intanto sembra di nuovo Lecce ed è tutto anche il Tg dedicato a Lecce e provincia termina qui grazie per averci scelto per averci seguito non andate via ancora una pausa pubblicitaria e a seguire il Tg Sport con in studio il collega Giuseppe Andriani a tra pochissimo a tra pochissimo a tra pochissimo a tra pochissimo a tra pochissimo